salve a tutti oggi facciamo un unboxing direttamente dal pacco amazon non per fare pubblicità ma questo mi è arrivato ok praticamente vediamo cosa ci è arrivato di interessante è facile questo unboxing è molto semplice allora non me l'aspettavo così secondo devo dire non mi aspettavo questa scritta anche perché dvd leggermente diverso allora apriamo il pacco cerchiamo di aprirlo senza rovinare il cd dato che questa confezione non è molto simpatica eccolo qua il nostro bollino si ha e ok questa è la cartolina non so perché mi attendevo due dvd perché appunto abituato a vedere le due videocassette separate comprate a distanza proprio nel momento che erano uscite pensavo a questo disegno che non esisteva ok questa foto la conosciamo bene e da questo lato abbiamo e qua abbiamo il nostro dvd ok insomma confezione un po' scarna per quello che era stato abbiamo anche degli extra e andiamo a vedere crediti qua niente di particolare qua abbiamo la prima copertina e la seconda copertina e abbiamo una copertina che contiene tutto bene questa unboxing è stato molto veloce perché essendo appunto una cosa molto facile da aprire non c'era molto da vedere niente allora ci possiamo sentire alla prossima grazie di tutto